guardami, io non voglio l'olonia e ti sei troppo pericolosa Irena sembra perfetta 32 anni sono tre anni mi piace il mistero si stanno con i miei amici miei che è molto difficile e ti porto via da tutto quello schifo scoprire tu devi imparare a proteggerti quando vai giù la sconosciuta ecco me in prima tv canale 5 lunedì alle 21 e 10 grazie